ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vi mostro come si può organizzare un angolo della vostra casa che può essere lo studio la cucina la camera dei bambini con pochi euro ho acquistato questo pannello da eleva merlen e mi è venuto tra pannello e spedizione sugli 8 euro quindi pochissimo e i ganci che utilizzerò poi per appendere gli oggetti li ho presi da lia express c'è una soluzione del genere anche da ikea però costa un po' di più anche perché i pannelli sono più piccoli e quindi dovrete acquistarne di più per poter poi fare diciamo una composizione da almeno un metro come quella che ho fatto io ho creato uno spessore sul retro attaccando semplicemente un pezzo di legno di riciclo e ho agganciato al muro il pannello con due chiodi perché praticamente se non avessi fatto lo spessore i ganci non si sarebbero agganciati bene perché hanno bisogno di spazio dietro al pannello stesso una volta fatto questo appeso appunto alla parete il pannello ho passato delle giornate intere a capire bene quale fosse la composizione ideale e purtroppo ho fatto tante 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 prove che forse sul video anche si vedono infatti vedete un pochino di differenza tra una clip e l'altra alla fine sono arrivata ad una soluzione decente e c'è questa qui che vi sto facendo vedere sulla sinistra ho appeso di washi tape più belli usando semplicemente delle bacchette del sushi che ho appunto messo sopra i ganci quelli a U e sopra ho sistemato tutti quanti i fili che uso per fare i bracciali o le collane poi ho creato una specie di trama di fili semplici di cotone quelli più spessi sulla quale ho appeso le foto o magari appenderò in futuro dei memo che ci sono Grazie a tutti. In basso poi ho sistemato tutte quante le pinze e le forbici e invece nei contenitori blu che in origine erano grigi e vi vengono dati insieme alla confezione di ganci, ho messo tutte quante le cosine piccole piccole tipo le mollettine, le varie pinzette, insomma tutto quello che è piccolino e mi serve anche subito da vedere e da prendere. Sulla sinistra poi ho tagliato e tinto questi due pezzi sempre riciclati di legno e li ho usati come mensole, sopra ho sistemato tutti quanti i glitter che erano più belli e che mi piacevano e davano anche un bel colpo d'occhio e sotto invece ho sistemato altri contenitori piccoli di glitter e anche qua non lo vedete ma ho sistemato tutte quante le colle più carine che ho e vari strumenti. Ho sistemato sotto con dei barattolini dell'IKEA tutte quante le penne che avevo e ho reso tutto quanto più carino con un bel quadretto al centro. Sopra ho una mensola, sopra la mensola ho sistemato delle lanterne e semplicemente un vaso di fiori ovviamente finti e poi ho attaccato anche delle lucette a led per rendere il tutto più carino e anche per utilizzarlo molto probabilmente come sfondo futuro dei miei prossimi video di ROI. Io spero che questa organizzazione vi sia piaciuta, ovviamente potrete utilizzarlo per qualsiasi stanza, quindi magari anche per la cucina per attaccare i denti della cucina, per attaccare magari tutti i giochetti che vanno attaccati al muro dei vostri bambini o magari anche di solito si utilizza questa parete in un'officina per attaccare gli attrezzi ma potrete utilizzarla anche appunto a casa magari per sistemare i vostri attrezzi che utilizzate per il fai da te. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!